Ciao ragazzi, qui Prism e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vedremo tutorial o estratti di live, ma dei link che potrebbero riguardare la nuova mappa di Cold War o più in generale comunque della season 2 delle novità che ci saranno con zombie. Allora, diciamo che già da giorni Treyarch, o Treyarch come volete chiamarla, ha fatto uscire dei tweet che rappresentavano tre gif di una mappa particolare che si pensa potrebbe essere la prossima e tipo la prima era questa, si pensava che potesse essere Kino per via non so del lampadario, delle arcate o altre cose del genere, però anche in live per esempio abbiamo fatto un'attenta analisi quasi frame per frame e siamo andati a confrontarla anche con le gif successive oppure gli elementi che potessero sembrarci simili. E alla fine è semplicemente l'interno di questo edificio all'interno dei Monti Urali che sembrerebbe quasi una moschea, infatti se ne andiamo a confrontare la conformazione o comunque l'edificio sembra proprio simile. Quindi io direi di toglierci dalla testa che sarà Kino. E io direi anche di dimenticarci del fatto che sia una nuova mappa esclusiva zombie, cioè tipo un DLC dove c'è Instagram e tutto quanto da completare, perché penso più che altro che riguardi la nuova modalità Outbreak. Scusate ma decido di registrare video e a quanto pare i muratori si mettono ad accordo e vengono a trapanarmi dietro le orecchie, quindi se sentite un po' di casino. Scrivetelo nei commenti e andiamo a catturare i muratori. E quindi niente, cosa stavo dicendo? Anzi, che praticamente queste qua non penso siano delle immagini riguardo a una mappa che uscirà classica che noi conosciamo riguardante zombie, ma più che altro alla nuova modalità di cui tanto si è parlato che è Outbreak. Outbreak dovrebbe essere una modalità open world dedicata solamente a zombie, quindi non molto lontana per esempio da Blackout, la modalità che c'era in Black Ops 4 dove sì, ci avevano aggiunto tipo alcune zone come Transit, Nuketown e altre cose dove potevi trovarci degli zombie. Questa invece dovrebbe essere proprio una nuova modalità dedicata interamente alla modalità che tutti noi conosciamo. Proprio ieri, quindi il 18 febbraio, non so in che anno lo state guardando, nel dubbio il 2021, è uscito un trailer effettivo della season 2, però noi ci andremo a concentrare solamente sulla parte relativa alla modalità zombie, qua chiamata anche modalità epidemia. Ah, tra l'altro già dai primi frame si può confermare tipo la teoria che avevo detto all'inizio, che praticamente è sui Monti Urali e non è una mappa a sé ma è Outbreak, perché se guardiamo questo edificio è praticamente lo stesso quello che c'è nella GIF. Poi, guardandolo solamente una volta, molto velocemente diciamo che ci sono degli elementi che colpiscono subito. Prima di tutto Samantha, Samantha Maxis, che abbiamo visto come focus centrale in Firebase e sarà effettivamente giocabile, questa cosa è molto interessante e poi gli altri riguardano solamente il multiplayer. Il primo zombie speciale che vediamo è un Mimic, poi, cosa fantastica, c'è il drago di The Resendrack, quello che dovevamo praticamente sfamare, che era una roccia dovevi sfamare e così potevi prendere il tuo arco. Ok, vediamo praticamente il Panzer, un Panzer, cos'è? Russo, un Panzer russo, classico, quello a cui siamo abituati. E poi c'è un riferimento a tipo Die Machine, quella, la modalità Ether, quando entravi nel portale. Non lo so, però è proprio per brevi frame, però, cioè, è quello, ci sono anche gli zombie corazzati. Diciamo che, guardandolo, sembra che abbiamo messo un po' di tutto, un po' di tutto, la mappa sembra davvero gigante, perché possiamo notare che c'è una parte nevata, una parte interna, una parte esterna tra la foresta. Sembra davvero grande, un open world assurdo. E non lo so adesso quale sarà, sinceramente, l'obiettivo di questa modalità. Una cosa che però è stata confermata è che non sarà PvP, quindi player contro player, ma sarà le PvE. E ci saranno delle missioni da fare in squadre, bisogna vedere poi queste squadre se saranno tipo da quattro, come un classico zombie, o le aumenteranno. Per esempio si parlava, c'erano dei leak anche che si parlava della modalità dolore. Non si sa, forse la metteranno a metà stagione o sarà una sorpresa. Tra l'altro mi viene in mente che è possibile anche notare le scimmette, quelle che c'erano su Die Machine, le scimmette fantasma, che questa volta hanno un ruolo attivo. Sembrerebbe che bisogna, tipo, scortarle all'interno di questo drone per arrivare ad una destinazione. E altre cose interessanti sono che, in base alle immagini postate, per esempio sul sito direttamente di Call of Duty, che ci saranno effettivamente i perk. Questo è un frame del player che prende una speedcola. Però guardando nel Wunderfits, non vorrei sbagliarmi, ma io vedo una lattina che potrebbe sembrare tipo quella del PHD. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei sbagliarmi, nel caso lo vedremo perché, tra l'altro, collegandomi ad alcuni altri leak, dovrebbero uscire con la season 2, comunque con la prossima mapa zombie, quindi non penso questa. PHD, Double Tap e Mule Kick. Però queste, vabbè, sono leak, prendeteli con le pinze. Altra cosa interessante, ritornando tipo le casse speciali, quelli che trovavi, non so, durante il Level Bunny di Firebase o la Coffin Dance di The Machine, quindi ci saranno delle ricompense. Vedete, tipo questa parte è nevata, quindi sembra davvero gigante questa modalità. Cioè, tipo, qua abbiamo visto tutto. Se andiamo a vedere effettivamente sul sito, per vedere i leak e le novità messe direttamente da Call of Duty, abbiamo 4-9 operatori, questo abbiamo già detto, tra cui c'è Maxis della Nato, prendere principalmente di zombie, nuove armi, come al solito, cosa interessante che mettono anche un nuovo cecchino finalmente. Andiamo giù, andiamo giù. Ok, una nuova esperienza zombie, Outbreak, Launch Week. Sarà una modalità interamente nuova, su larga scala, e un'esperienza totalmente diversa dalle altre. In effetti negli altri zombie una cosa del genere non c'è mai stata. Ripeto, è stato provato ad affrontare questa cosa open world zombie, un po' in Blackout di Black Ops 4, però è stata una cosa, un flop, un flop. Allora, qua dice, con una nuova opportunità di cercare il Dark Heater con la squadra Requiem. Quindi le storie, sapete cosa, potrebbero essere anche collegate. Potrebbe essere un DLC effettivo di zombie, però in maniera diversa, cioè noi fino ad ora abbiamo pensato con, hai una mappa, ci giochi, magari fai round, cerchi l'ister che è finita lì. Ma questa volta, secondo me, hanno voluto un attimo distinguersi, perché hanno messo questa mappa, e la cosa figa è se da questa mappa riesce a continuare la storia, quindi non so se magari all'interno, oltre alle missioni, ci sono dei piccoli easter egg da fare, magari con una cutscene, questa cosa sarà davvero bella, nel caso appena uscirà la, faremo delle live, la controlleremo per bene. Ok, qua dice, vabbè, bisogna sopravvivere, poi vediamo un attimo i muratori nel mentre qua sono tornati alla riscossa, perché vedete qua dice, continuando la storia del Dark Heater, cioè la storia del Leto Oscuro, insomma. Ok, e si troverà nei Monti Urali, confermato, ci saranno nuovi nemici, nuovi obiettivi, nuove ricompense, delle nuove informazioni anche da cercare, con veicoli e jump pad, quindi ok, ritornano anche quelli che abbiamo visto per la prima volta, diciamo, abbiamo visto un po' in The Resendrache, e confermati in Firebase. Ci sarà anche l'estrazione, ok, ci sarà l'estrazione, è molto interessante, molto interessante, vi dirò, sono un po' confuso, perché non abbiamo punti di riferimento, c'è altri punti, altre mappe a cui fare riferimento, modalità simili, si stanno impegnando, ok che gli easter egg magari sono stati un po' deludenti, per il fatto che erano troppo semplici, o se no che mancavano cutscene, cioè tipo, una considerazione che ho fatto è, in Firebase hanno messo la cutscene, ma hanno tolto il trofeo, in Die Machine c'era il trofeo, non c'era la cutscene, non lo so, mettete entrambi, troviamo un attimo un punto d'accordo, come i vecchi zombie. Poi qua dice, nuovi upgrade, ok, ecco qua, abbiamo tipo un'immagine del Panzer, classico Panzer, a cui più o meno siamo abituati, ci saranno diversi cristalli ethere, ethereum, per appunto power up, le modifiche e cose del genere, armatura, ok questa è carina, aggiungeranno anche una nuova modalità, cioè una nuova mod per le munizioni, che tra l'altro, una cosa bella di Cold War, è che se fanno una modifica, per esempio nuovi perk, o nuove mod, le mettono anche in tutte le mappe precedenti, per esempio se andate su Die Machine, ritrovate adesso la Tombstone, questa cosa è molto carina, quindi penso che anche nelle mappe principali, potremmo avere questo Shutter Blast, queste le immagini che abbiamo visto prima, di tutti i perk, che ci sarà il Wunderfist, e poi niente, e poi qua si va a parlare, delle mappe del multiplayer, che sinceramente non ci interessano, probabilmente questi montiurali, verranno inclusi anche all'interno di Warzone, ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, principalmente penso sia stata fatta per zombie, ma questo è comunque un mio parere, spero che il video sia stato abbastanza esaustivo, nel caso se voi avete altre news, o altre cose, scrivetelo pure nei commenti, così da informare anche tutti, tutti gli altri, riusciremo a mettere insieme più informazioni, nemmeno, mentre non so, grazie per aver visto questo video, spero si sia capito tutto, ci saranno molti tagli, e anche i muratori ci saranno, e niente, quindi se il video è stato utile, lasciami un like, iscriviti per rimanere sempre aggiornato, nei commenti, ripeto, scrivi qualunque cosa, anche semplicemente banana, e noi ci sentiamo al prossimo, bella!